Qualche cosa che ha rivoluzionato questo modo di fare e soprattutto ha parlato con un linguaggio che noi ragazzi abbiamo assolutamente recepito immediatamente, ovvero è arrivato come dicevo il rock and roll dagli Stati Uniti ed è arrivato attraverso un film che si intitola Senza trego e rock and roll, è il titolo in italiano perché poi in realtà il film riprendeva pari pari il titolo della canzone che veniva eseguita all'interno di questo film e che si intitola rock around the clock, cioè il rock dell'orologio, ovviamente prima di diffondersi questo genere diciamo, ha dovuto in qualche modo aspettare che questo film uscisse e che, perché dagli Stati Uniti non è che arrivassero i dischi ancora in un periodo in cui magari aveva sì qualcosa di più moderno ma magari nel jazz così, in questi ritmi insomma un po' più sofisticati, ecco e non tutti quanti noi avevamo la possibilità poi di appassionarci, quindi questo film in qualche modo è stato come dire, l'untore di questo nuovo genere musicale. Io ricordo che io sono di un piccolo centro in provincia di Pisa che si chiama Santa Croce sull'Arno, è famoso, oserei dire quasi nel mondo, perché è un centro dove si concentrano le concerie di Pellame, di Cuoio e una volta arrivavano fino a 3-400 oggi sono un po' meno per via di un sacco di cose insomma. Fatto sta che in questo piccolo centro ovviamente se si considera intorno alla metà degli anni 50 la mentalità come in tutti i piccoli centri peraltro l'Italia, non era così come dire, dicevo non è che fossero più avanti diciamo come mentalità, bensì quando è arrivato questo genere molte sono state le critiche soprattutto da parte degli adulti che non recepivano questo tipo di ritmi, soprattutto di musicalità, anche perché non esistevano ancora cantanti in lingua italiana per cui la lingua inglese non è che tutti quanti fossero in grado di comprenderla, per cui insomma era molto osteggiata. Ma era osteggiata nonostante appunto mostrassi, c'era, quando si andava al cinema, prima del film insomma c'era un cinegiornale che si chiamava la settimana Income appunto, qualcuno lo ricorda ma è meglio non dirlo perché magari uno si qualifica come età. Posso dire una cosa? Prego signora. In merito a quello che lei sta dicendo del fatto che i paesi prima, i piccoli centri, è arrivato questo genere di musica da un'altra alpe, da un mare, da un'altra oceano, non è stata accettata subito, ci è voluto del tempo, anche se poi comunque ha preso piede inevitabilmente, ma io credo che in modo particolare, come neanche nelle grandi città, ma in modo particolare nelle piccole, molto ha contribuito anche la Chiesa a non farlo accettare. Perché il rock è come il blues è stato visto sempre come i ricchi del diavolo. Ci stavo arrivando, ci stavo arrivando, ma... No, 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 ci stavo arrivando perché si lega poi all'esordio qui in Italia del genere rock and roll attraverso Adriano Celentano, attraverso Ghigo, attraverso Clemsacco, attraverso questi che io oso definire pionieri perché hanno in qualche modo contribuito poi al lancio di questo genere. Ed è lì, è quando si esibivano questi nostri artisti a Milano, soprattutto al Palazzo del Ghiaccio, scusi, intorno al 57 appunto, che venivano fuori i vescovi che addirittura si lanciavano contro questa musica che era la musica del diavolo, eccetera. Ma facendo un passo indietro, anche io appunto intorno al 57 è capitato di andare al cinema e vedere la settimana Income, in diverse occasioni, dove dei servizi mostravano che in Europa, nei cinema dove proiettavano questa pellicola, ovvero Rock Around Clock, accadeva il finimondo. A un certo punto i ragazzi si alzavano in piedi al ritmo di questa musica e spaccavano le sedioline, si mettevano a ballare, lanciavano per aria di tutto. Insomma, succedeva il finimondo. Fuori si formavano addirittura delle file di qualche chilometro di ragazzi in attesa che finisse lo spettacolo per andare poi a prendere il posto di quelli che sarebbero usciti. Quindi io vedevo sta roba e facevo, ma che musica sarà? Perché poi al momento lì faceva soltanto vedere sto gran bailam di ragazzi che saltavano e rompevano tutto, ma si sentiva poco quello che io facevo. Ma che musica sarà? Con i miei amici, eccetera. E un giorno, appunto, finalmente, dopo qualche tempo, insomma, è arrivato anche al mio paese. Arrivavano sempre dopo i film nelle grandi città, arrivavano quasi immediatamente, e poi nei paesi facevano il circuito, insomma, magari dopo un anno, dopo due anni, arrivavano anche nei piccoli centri. E una sera è arrivato questo film e io con i miei amici ho detto, oh, si va a vedere quei film, c'è, sai, quei ragazzi, madonna, rompan tutto, si va a sentire che musica è, di che musica si tratta. E siamo andati. Siamo andati e io, per un quarto d'ora, venti minuti, per chi ha visto il film o chi avrà occasione di vederlo, E' una noia mortale, sto film, perché si vedono due signori che sono seduti a un tavolino in un locale, in una sala da ballo, negli Stati Uniti, e in un certo senso si stanno lamentando perché è una moria, questa sala da ballo, cioè due coppiette che ballavano a ritmo, diciamo, molto stanco, così, eccetera, e quindi i due signori, i proprietari, facevano, ma qui andiamo falliti, ma questa cosa qua non possiamo più tenerla aperta, sto locale, perché qui non viene più nessuno. Allora l'altro fa, beh, facciamo una cosa, andiamo a New York e andiamo a vedere se ci sono delle novità, delle cose così, eccetera, e al limite vediamo un po', se no chiudiamo. E va bene, e partono e vanno a New York e a un certo punto passando da una strada in macchina, vedano un locale tutto sfolgorante di luci e un sacco di ragazzi che si dirigono all'interno di questo locale, insomma. Mi diceva, aspetta un po', vedo un sacco di ragazzi là, fermo un po', andiamo a vedere di che si tratta, come mai vanno tutti lì, entrano e quindi, ecco, tutta questa parte noiosa dell'inizio, io mi stavo chiedendo come mai, insomma, questi ragazzi spaccassero tutto soltanto perché stava vedendo i scemi che parlavano che il locale non funzionava. E a un certo punto questi entrano in questo locale e si mettono seduti e vedono una marea di ragazzi seduti ai tauri che si divertivano, che ridevano. A un certo punto parte, c'è un'orchestrina che era, praticamente era Bill Haley, Andy Scomets, era un cantante morto, di rock'n'roll, il primo credo che, anzi, senza credo, è sicuramente stato quello che ha lanciato il rock'n'roll nel mondo. Si pensa contrariamente a quello che si pensa, cioè che sia stato Elvis Presley, eccetera, eccetera, in realtà il rock'n'roll è arrivato in Europa e nel mondo attraverso questo film e attraverso questo cantante, questo cantante che si chiamava Bill Haley, il quale a un certo punto inizia la serata e lui esordisce, non con Rock Around the Clock, bensì con See You Later Alligator, che è il retro di Rock Around the Clock, e a un certo punto tutta sta massa di ragazzi si precipitano in pista e comincia un ballo, ragazzine che volavano per aria sotto le gambe, si giravano. Insomma, a quel punto a me è venuto praticamente uno shock quasi, perché... Grazie a tutti.